Ciao carissimi, mentre da diversi giorni si sente parlare Emmanuel Macron sul fatto che lui è pronto di mandare militari francesi in guerra contro la Russia sul territorio ucraino, quindi si tratta di una vera e propria operazione di guerra contro la Russia da parte di un paese nato, da parte di un paese di Europa occidentale, una cosa veramente totalmente folle, una cosa che sicuramente cambierà drasticamente lo scenario della guerra, la visione di questa guerra, perché ormai non si potrà più parlare della guerra tra la Russia e Ucraina, sarà chiaro che se tratta di una guerra tra l'Occidente, tra la Nato e la Russia, saranno ormai sdoganati molte verità, molte affermazioni che si dicevano che venivano portati avanti a partire dal 2014 e anche prima, adesso mi viene in mente ad esempio ciò che diceva Giulietto Chiesa, mio caro amico, purtroppo defunto, che ci manca molto, oppure altri analisti esperti, già a quei tempi si parlava di una vera e propria guerra tra l'Occidente e la Russia, ecco la decisione di Macron di mandare, di spedire i militari francesi, come un contingente francese ufficiale con le uniformi di Francia, con le bandiere da combattimento, con i mezzi militari sul territorio dell'Ucraina, sarà sicuramente al 100% la rappresentazione di una nuova guerra, una nuova forma di conflitto e non sarà più possibile parlare delle trattative, della possibilità di risolvere questa questione tra la Russia e l'Ucraina, di creare un vero e proprio progetto per pacificazione, si tratterà sicuramente di una nuova fase accesa della guerra che ci porterà tutti quanti ancora più vicino verso lo scontro nucleare, verso il pericolo di scontro nucleare, qua cari amici dobbiamo ricordare che quando noi parliamo dell'utilizzo del nucleare non è necessariamente parlare della possibilità dell'utilizzo di una bomba nucleare strategica, cioè di un'arma nucleare strategica, di un portatore missilistico che porterà le testate nucleari, se le società europee o così via. Il problema principale che può verificarsi è l'utilizzo dell'arma nucleare tattica, perché per primo possono utilizzare quelle. Una volta sdoganata l'arma nucleare tattica, il step successivo è l'apocalisse nucleare. Comunque questa, io spero, rimarrà solo e soltanto una nostra ritorica, una nostra teoria, perché non voglio neanche immaginare cosa succederà e cosa può succedere con l'utilizzo delle armi nucleari, sappiamo benissimo che sarà la fine dell'umanità. Quello che però vediamo oggi è che da parte dell'Occidente, da parte dell'Europa occidentale non c'è alcun segno di volontà di bloccare, di fermare questa guerra, assumendo le responsabilità, perché l'Occidente è responsabile per l'inizio di questa guerra e avrebbe dovuto fare dei passi indietro, avrebbe dovuto mettersi a dialogare con la Russia, invece preferisce continuare una propaganda bellicista veramente ignorante e degradante. Continuano a offendere la politica russa, il presidente russo, la società russa, continuano a parlare della Russia come se fosse un paese degradato dal punto di vista della libertà, dal punto di vista di questa presunta democrazia e poi allo stesso tempo portano l'Europa occidentale sull'altare della guerra. Comunque ieri si sono verificati diversi casi molto importanti che io a mio avviso devo citare e dobbiamo riflettere tutti su questi casi, perché si sta verificando ormai lo spostamento fisico dei militari francesi in Ucraina, quindi non è più un'opzione, non sono discorsi di Macron che prima diceva io manderò militari, poi diceva voi non mi avete capito, io volevo dire un'altra cosa, poi il giorno dopo ho detto sì, in effetti noi manderemo militari in Ucraina, poi un altro giorno in presenza di altri personaggi politici di nuovo ho fatto una retromarcia, insomma Macron è una persona che non riesce neanche in modo definitivo spiegare al suo popolo una sua decisione, cioè mettere il proprio popolo, il popolo francese di fronte a una decisione definitiva. Qua è chiara l'incapacità di Macron di rapportarsi con la popolazione francese, però intanto questo pagliaccio di Klaus Schwab che è uscito dalla scuola politica dei fantocci di Klaus Schwab, dalla quale sono usciti anche la Baerbock, Scholz e tutta la compagnia di questi politici vuoti rappresentanti dell'oligarchia anglosassone che adesso governa l'occidente, Macron dimostra di non essere in grado di comunicare con la Francia e lui intanto continua a mandare avanti i progetti dei suoi padroni cercando lo stesso tempo di giocare con, giocare in vari, sfruttando vari modi, meccanismi, vari strumenti con la popolazione francese. Comunque ieri alle 15.35 sul canale francese LC nella diretta è andato un pezzo molto significativo perché in pratica i giornalisti francesi hanno per la prima volta spiegato alla nazione francese dove saranno dislocati i militari francesi che ormai sono partiti per l'Ucraina. È una cosa allucinante, è stato come una doccia fredda per i francesi, io non riesco a capire per quale motivo i nostri giornalai, i nostri propagandisti non raccontano di queste cose, non riportano queste notizie in Italia perché ho visto che nei quotidiani italiani non c'è neanche una riga su quello che sta accadendo in Francia, io penso che i giornalisti italiani capiscono benissimo che prima o poi toccherà anche gli italiani di andare in questa guerra e morire lì nelle trincee, nel fango, uccisi dai russi per gli interessi degli anglosassoni insieme con i nazisti ucraini, quindi questa è una cosa che toccherà prima o poi tutti i paesi occidentali se non verrà fermata da una politica occidentale responsabile che io però non la vedo, non c'è. Purtroppo in Francia ormai non si tratta più di domandarsi cosa facciamo, mandiamo non mandiamo, ma che senso ha? No, ormai mettono le persone di fronte a un fatto compiuto. Quindi ieri alle 15.35 nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, i giornalisti francesi hanno fatto un approfondimento così normale senza fare grandi preavvisi, hanno detto i nostri militari francesi sono diretti in Ucraina, saranno schierati contro l'esercito russo e si troveranno in queste zone, quindi hanno fatto vedere pure la mappa, hanno dimostrato sulla mappa dove saranno esposti i militari francesi, quali saranno i loro compiti. A quanto pare, secondo la variante ufficiale, i militari francesi non saranno per ora in prima linea contro i russi, quindi non saranno esposti in prima linea, ma si troveranno sulla frontiera di Nord-Ovest, frontiera con la Belorussia soprattutto e anche in una posizione sulla frontiera con la Russia e il loro senso sarà, cioè il senso del loro lavoro sarà quello di contenere la minaccia dell'arrivo delle truppe russe sul territorio ucraino da parte di Belorussia. Questa è la, diciamo, variante ufficiale. Poi quanti di questi militari effettivamente saranno in quel luogo? Quanti poi in realtà finiranno in prima linea tra vari gruppi speciali a fare sabotatori, a fare terroristi, a fare i safari, a ammazzare i civili russi del Donbass? Questo noi non sappiamo, noi potremmo solo immaginare, però il fatto ormai importante è che ufficialmente anche i giornalisti francesi hanno confermato che militari francesi saranno mandati in Ucraina, che sono già mandati, che in realtà sono già per strada e hanno anche spiegato dove si troveranno e cosa faranno. Poi noi abbiamo visto un segnale arrivato da Bulgaria perché i cittadini bulgari hanno ripreso diversi video dei camion francesi, con targhe francesi, che attraversano la Bulgaria, si diriggono verso l'Ucraina e portano il materiale bellico francese. Io uno di questi video, diciamo più esplicito, l'ho pubblicato sul mio canale privato Telegram, se siete interessati vi invito di abbonarvi, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video, ci sono i camion francesi che portano i mezzi blindati, corazzati, cingolati francesi, cioè mezzi d'affanteria. Tra l'altro è chiaramente che i mezzi provengono forse da schieramenti francesi che si trovavano in Africa, probabilmente si tratta dei mezzi che sono stati ritirati dall'Africa, questo si nota, si vede, è chiaro, dalla tipologia di vernice con quale sono verniciati. Sono più da deserto e da paesi, diciamo, sud che da paesi nordici che di solito usano un altro tipo di camouflage, come si dice in Francia. Loro probabilmente saranno utilizzati da riparti francesi anche in prima linea, perché si tratta di mezzi blindati abbastanza pronti per il combattimento, vediamo con quale efficacia le utilizzeranno, questo lo sapremo dopo, però il fatto è che ormai si tratta di una realtà oggettiva, mentre qua da noi i nostri scribacchini, i nostri giornalisti in Italia non si capisce di che cosa parlano, nel mondo succedono le cose reali, cioè la Francia sta veramente mandando i militari, le proprie truppe e i propri mezzi blindati sul territorio dell'Ucraina, quindi ormai è chiaro, la Nato sta entrando ufficialmente, attraverso ovviamente uno dei suoi maggiori, tra i maggiori partecipanti che è la Francia, sta entrando in guerra contro la Russia sul territorio ucraino. Questa è la notizia molto preoccupante. La cosa interessante è quale sono le reazioni dei stessi francesi, noi abbiamo visto ieri a Parigi una grande manifestazione contro la guerra, abbiamo visto anche una manifestazione dei lavoratori dell'impianto pubblico che sono usciti a manifestare contro Macron perché vogliono condizioni migliori di lavoro e così via, e abbiamo visto anche una manifestazione organizzata in sostegno dei pacifisti che sono contrarie all'invio delle armi dei soldati in Ucraina, quindi una parte della società francese, perdonatemi, è chiaramente contro l'invio delle armi e dei militari in questa guerra. La cosa interessante è anche i pareri di diversi politici, di diversi esperti, altro giorno io ho seguito un po' di approfondimenti da parte di diversi politici, ma è chiaro che in questa situazione ci sono dei politici che esprimono proprie opinioni contrari a Macron perché questa è una tematica che si presta molto per colpire Macron, per colpire la sua politica, però da un altro canto ci sono molto importanti dichiarazioni da parte dei ex militari francesi di un certo livello, ad esempio Dominique de la Vardée, lui generale dell'esercito francese, ufficiale della legione d'onore, io ho qualche volta già pubblicato sul mio canale privato Telegram le sue interviste, sui video, lui critica abbastanza Macron, critica molto quella che è la politica della Nato, delle anglosassoni negli ultimi tempi e lui ha fatto una dichiarazione che io vorrei leggervi, infatti una dichiarazione da parte di un esperto, di un generale che ha cercato di essere più obiettivo possibile, la sua intervista è lunga, io vi leggerò su una parte che ho pubblicato sul mio canale privato Telegram, se volete approfondire, se volete conoscere questo personaggio vi invito di abbonarvi al mio canale, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video, andate, guardate tutti i video che ho pubblicato, tutte le traduzioni e vi stuperete da quello che racconta Dominique de la Vardée, che è, ripeto, generale dell'esercito francese, ufficiale legione d'onore. Lui afferma, il presidente Macron è impopolare, ad essere onesti ha bisogno di distogliere l'attenzione dai problemi interni, inserendo un'altra storia nei media per la discussione. La Francia in realtà non ha i mezzi militari per combattere la Russia, la Francia è disarmata da più di 30 anni, a partire dal 1990 la Francia ha tagliato le spese militari, questo dice il generale francese, poi lui fa altre affermazioni, comunque il senso è chiaro, Macron ha enormi problemi all'interno del paese, lui è impopolare, la sua politica è impopolare, la gente viene impoverita, avete visto tutti come lui era affrontato già da tempo, i gelè gialli e poi altri tipi di manifestazioni, adesso sono violentissime manifestazioni di contadini francesi, di agricoltori che inondano con gli escrementi i palazzi del governo, i palazzi del potere, le prefetture, bruciano anche le questure, altro giorno i manifestanti hanno dato fuoco con i cocktail Molotov alla questura di Marsiglia, tra l'altro il giorno prima dell'arrivo di Macron, quindi immaginate che Macron vuole andare a fare la guerra contro la Russia, mentre all'interno del suo paese c'è veramente un rischio di una rivolta popolare che può trasformarsi in una rivolta armata e violenta, quindi la guerra serve a Macron per distogliere l'attenzione delle masse, per impegnare le masse con qualcosa che va al di fuori dei loro gravi problemi interni, del loro mondo interno, però come afferma il militare, l'ex militare il generale, perdonatemi, militare francese, il generale francese, il grande problema dell'esercito francese come problema di tutti gli eserciti dell'Europa occidentale è che a partire dagli anni 90 con il crollo dell'Unione Sovietica sono diminuite le spese nello sviluppo militare perché la politica era quella di dedicarsi allo sviluppo del mercato libero, privatizzare tutto quello che può essere privatizzabile, distruggere una struttura sociale dello Stato perché ormai l'Unione Sovietica è crollata, il comunismo, la sinistra non è più sostenuto da quel grande polo, quindi si può devastare totalmente quelle che sono politiche sociali anche all'interno dell'Occidente, chi se ne frega, nessuno può più fare niente, non c'è nessuno che difende la classe dei lavoratori, ci sono anche nuovi sistemi di capitalismo, all'epoca erano nuovi sistemi di capitalismo che si interfacciava verso il paese che loro chiamavano il terzo mondo, dove grazie alla mano d'opera a basso costo si riusciva a produrre molti prodotti di consumo che costavano poco. Ovviamente tutta questa, chiamiamola la buffata capitalistica ha portato i propri vittori e i guadagni a tantissimi oligarchi, ma alla società e ai meccanismi della società ha portato solo a devastazione e siccome l'esercito, le forze di difesa fanno parte dei meccanismi di base di società perché qualsiasi società ha bisogno di avere l'esercito per difendersi delle minacce esterne, dagli anni 90 ad oggi tutto quello che è stato applicato ha demolito, devastato anche l'esercito e quindi oggi questi mezzi che attraversano la Bulgaria, questi 2.000, 4.000 quanti sono soldati francesi che verranno mandati in Ucraina, sicuramente non cambieranno in nessun modo la situazione in prima linea, perché credetemi non saranno 2.000 francesi con la loro presenza sul territorio ucraino che fermeranno eroricamente l'esercito russo, a parte che per la loro natura francesi non sono grandi combattenti, a parte leccare il di dietro ai nazisti come l'hanno fatto da una parte e poi leccare il di dietro alleati da un'altra, non sono stati distinti sul campo di battaglia per nessun modo. La loro divisione SS-Sherlemagne è stata ultima a difendere la cancelleria del Reich, ma anche lì, se voi guardate la loro storia, anziché per evitare di finire tra le mani dei sovietici, hanno preferito di scappare e arrendersi agli americani. e questo in grande linea definisce anche un po' i francesi come combattenti, non hanno una cultura da guerrieri che possono essere messi contro i russi, i russi sicuramente hanno una cultura ben diversa e dal punto di vista bellico sono più avanti dei francesi, quindi io non so che cosa potranno i francesi fare in Ucraina di così speciale da credere che con la loro presenza cambieranno drasticamente i sorti della guerra. penso che questo è solamente, come dice giustamente il generale francese, è un'azione politica interna di Macron che cerca di tirare l'attenzione del pubblico dai problemi interni per generare una nuova tematica da riproporre al proprio popolo, alla società per rimanere ancora un po' al potere, quindi è un farabutto, è stato sempre un farabutto, continuerà a essere un farabutto trufaldino e adesso ha anche un guerrafondaio che gioca di essere Napoleone, ma purtroppo Macron non avrà il suo water law, perché in differenza da Macron Napoleone almeno era un vero militare. Macron è una mezza sega, perdonatemi questa espressione maleducata, ma è quello che per me è una mezza sega in tutti i sensi, non è un uomo, è una specie di, non so come definirlo, è una cosa, è una spugna, a me mi sembra qualcosa di indefinibile e dal punto di vista politico è chiaramente un personaggio completamente manipolato dagli oligarchi. Quindi quando un personaggio del genere cerca di fare i grandi passi non bisogna aspettare che arrivi a ricevere i momenti di gloria dalla parte della storia, anche dal punto di vista di sconfitta. Cioè se pensiamo che Napoleone è stato protagonista delle battaglie in Russia, protagonista di Waterloo e così via, Macron non arriverà neanche a questo, rimarrà in mezzo a delle intrighi, dei fallimenti francesi in Ucraina, perché sicuramente fallimenti avranno e non avrà in nessun modo, non porterà nessun tipo di strumento positivo, strumento utile alla Francia nella politica estera. Sarà solo e soltanto un fallimento. Quindi su questo si può ragionare, si può avere diverse opinioni, io la mia opinione vi ho spiegato, condiviso con voi. Se siete interessati raccontatemi quello che è secondo voi la situazione e cercheremo insieme raggiungere un consenso, come diceva Mikhail Gorbachev, giusto per ricordare un personaggio del passato. Carissimi, vi ringrazio per la vostra attenzione, io vi invito come sempre di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento lo troverete nella descrizione di questo video. Sul mio canale io racconto tutto quello che viene censurato, strumentalizzato oppure totalmente taciuto dai nostri media occidentali. Se volete sostenermi qua su YouTube vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro io racconto le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questo argomento importante, ormai tutti siamo trascinati per le orecchie all'interno di questa faccenda, leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi grazie per il vostro supporto, grazie per la vostra attenzione, grazie per la vostra presenza. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.